La decide Pellegrini su calcio di punizione. Cagliari-Roma finisce 2-1 per i giallorossi. Io sono Simone Spada, giornalista di Nemesis Magazine e anche stavolta vi do la mia analisi su quella che è stata la partita dei Rosso-Blu. Prima di partire con l'analisi vi invito a iscrivervi al canale, quindi seguite un pochino quelle che sono le informazioni che trovate anche su questo video. Iscrivetevi al canale, seguite tutti i video e parliamo assieme di quella che è la stagione del Cagliari che continua ad andare male. Perché? Perché Cagliari è ultimo in classifica, ha perso anche stavolta 2-1 con la Roma a rimonta dei giallorossi che sono riusciti a ribaltare una partita che si stava mettendo molto male. Perché? Perché Cagliari è riuscito a trovare il vantaggio con Pavoletti nel secondo tempo dopo un primo tempo in cui aveva retto praticamente molto bene tatticamente la disposizione in campo nel secondo tempo è cambiato un pochino qualcosa, soprattutto nel momento in cui Belanova ha spinto di più rispetto al primo tempo nonostante nel primo tempo avesse preso anche una traversa, ma da lì aveva pensato più che altro a difendere nel secondo tempo ha spinto di più e spingendo di più il Cagliari è andato più in avanti in attacco ed è arrivato appunto il gol di Pavoletti su un cross di Marin colpito di petto da Belanova e poi Pavoletti l'ha messa dentro, lo stesso Pavoletti che ahimè ha sfiorato per due volte del gol prima con una scivolata, peccato dal descetto del rigore, era solissimo, poteva siglare il 2-0 e poi con il colpo di testa che Rui Patrizio ha deviato e quindi ha negato la gioia del gol 30 secondi più tardi è andato a parigiare la Roma con i Bagnez in uno di quelli che è stato un po' il leitmotiv di Cragno di questa partita ne parlerò ovviamente nei promossi e bocciati a quel punto la Roma ha continuato a spingere, stava già spingendo ma a quel punto ancora di più è arrivato il 2-1 con la punizione di Pellegrini e lì la gara è stata messa in ghiaccio in modo che non succedesse praticamente più nulla e infatti non è successo più nulla promossi e bocciati di questa partita vado a promuovere una sola persona e a bocciarne una sola l'unico promosso è Raul Bellanova perché? Perché comunque ha dimostrato di essere qualcosa di più rispetto al giocatore timido e per certi versi per molte persone scarso presente a Cagliari l'esterno ha spinto benissimo sulla fascia destra ha imperversato contro gli avversari della Roma è riuscito a dare alcuni bei cross ha preso una traversa, l'assist anche se in maniera indiretta è suo diciamo così e quindi insomma assolutamente promosso e Mazzarri dovrà tenerlo ben a mente per le prossime partite vado invece a bocciare Cragno Cragno perché? Perché per tutta la partita non è sembrato un portiere sicuro non è mai uscito nella sua insomma area di porta mai uscito e questa è una cosa abbastanza grave per un portiere sul primo gol insomma sì il palo aiuta i bagnez ma Cragno non c'è semplicemente non c'è è rimasto troppo bloccato in porta per riuscire a vedere bene un po' tutte le situazioni e non solo sulla punizione di Pellegrini e non solo disposto male ma non vede partire il tiro tanto che fa un passetto verso destra e poi deve ripiegare verso sinistra dove va la palla quindi si trova sempre in difficoltà sempre in ritardo dunque il Cagliari perde ancora saranno ore molto molto difficili perché il Cagliari ultimo non si vede la luce in fondo al tunnel e probabilmente la società sta ragionando su quello che può essere il futuro il tempo di Mazzarri sta scadendo non c'è stato il passo in avanti che ci si aspettava gennaio come ho detto nel precedente video è molto lontano e quindi insomma in questo momento la posizione del tecnico scricciola un pochino non escluderei un ritorno di semplici se le cose dovessero continuare ad andare in questa maniera qui oppure addirittura come si dice l'arrivo di un terzo allenatore speriamo ovviamente che non sia Iachini io vi ringrazio per aver visto questo video iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima grazie